Non ha tanto bisogno di essere presentato, abbiamo in collegamento il direttore di Radio DJ, Linus. Hola, buongiorno. Buongiorno, aspetta che tu stiamo allo schermo. Ciao a tutti, buon pomeriggio. È un gran piacere averti di nuovo qui al World Radio Day. Diciamo una volta all'anno ce lo possiamo prendere come appuntamento fisso. No, scuso perché ti prometto sempre una presenza fisica e poi non ci riesco. Giuro che non è perché sono pigro, però vedo che ogni anno crescete, quindi l'anno prossimo quando sarete a delle vittorie oppure in qualche teatro al Manzoni, qualche posto meraviglioso, verrò a trovarvi fisicamente. Grazie comunque per ricordarvi sempre di me. Grazie perché so che la tua giornata è molto impegnativa e piena di appuntamenti e trovi sempre però il tempo alla fine di dedicarci qualche minuto. Allora io vorrei entrare subito in una storia che mi ha colpito perché per la prima volta probabilmente ho visto qualcuno che si è preso la responsabilità pubblicamente per i dati d'ascolto. Un gesto di altissimo livello, da grande leader, è stato anche un segnale di buonsenso verso le altre radio che invece, fatemelo dire, spesso si sbracciano per autoproclamarsi vincitori, vincitrici dei dati. Tu hai detto invece pubblicamente se gli ultimi dati non sono stati eccelsi, la colpa è la mia. Posso farti un applauso personale? No, 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 io non vorrei essere l'eccezione. Purtroppo lo sono per due motivi molto differenti. Uno che è il tipo di indagine che viene realizzata nel nostro piccolo mondo è un'indagine che dà raramente la possibilità di capire che cosa funziona e che cosa non funziona. Perché sono dati che arrivano sempre con un ritardo importante. Ogni volta che c'è qualcosa che non torna e tu chiedi una spiegazione, la risposta che ti viene data è sempre sì, ma non ci devi fare tanto affidamento perché il trimestre ha così poche interviste che quindi non è attendibile. E quando diventa attendibile? Ma sul semestre, ma meglio ancora sull'anno. Quindi non vuol dire che per tutto l'anno abbiamo un'indagine, ma soltanto una volta all'anno questa indagine ha un significato. E questa è una cosa che purtroppo non si riesce a raddrizzare, anche perché fondamentalmente la maggior parte degli editori del contenuto vero e proprio della radio non è che gliene freghi moltissimo. Si tende a vendere un marchio più che una radio stessa e si tendono a vendere dei numeri piuttosto che dei risultati concreti. E quindi a me dà molto fastidio questa fioritura di numeri che di volta in volta vengono ostentati, tendenzialmente anche sommando numeri che non dovrebbero essere sommati. Chi se ne frega se tu hai cinque radio e messe insieme valgono cento. Prendine una per una e dimmi una per una quanto valgono. In ogni caso ognuno è libero di raccontare le cose che crede e dal punto di vista che crede. Io molto sinceramente in questa occasione ho detto se durante l'estate siamo andati meno bene è perché sono stato troppo tenero alla faccia di quelli che dicono che sono stronzo, insomma. E ho permesso a troppi dei miei di andare contemporaneamente in vacanza e ho fatto un paio di esperimenti che forse non hanno funzionato. Dovrebbe essere così sempre, io credo. Un allenatore di calcio lo fa, questa autocritica, ma vedo perché non lo possiamo fare noi che alleniamo una radio. Ecco, io però essendo stata forse delle prime volte nella mia breve carriera radiofonica un gesto che non ho mai visto, l'ho notato. Quindi ti faccio i miei complimenti almeno per la correttezza e la schiettezza. Però poi alla fine i numeri che contano sono quelli del mercato pubblicitario. La radio è cresciuta dell'1% rispetto al 2021, il comparto pubblicitario più o meno. Radio DJ ha fatto un più 11%. Sì. E a parità di ascolti, anche magari con altre radio importanti, comunque DJ continua ad avere un appeal potente agli occhi degli investitori pubblicitari. Quali sono gli ingredienti per ottenere questo risultato anche così a lungo nel tempo, quindi continuativo? Ci sono degli ingredienti, delle formule magiche? Qual è la ricerca? Non è una formula magica, è che noi vendiamo un mondo e questo mondo ovviamente ha un valore molto più grande di un adesivo. Adesso, senza essere ironico nei confronti magari di una certa concorrenza, però se voi ci fate caso, la comunicazione del 90% delle radio è fatta appunto spingendo e comunicando il brand, il marchio. Per carità, è una cosa super corretta ed è una cosa che paga in termini probabilmente anche di ascolto. Però il mercato pubblicitario dell'adesivo non è che se ne faccia tantissimo, anche se questo adesivo si porta dietro dei numeri di un certo tipo. Al mercato pubblicitario interessa che ci sia un valore dietro quel marchio e il valore che noi storicamente ci portiamo dietro e cerchiamo costantemente di portare dietro è un valore che è anche tangibile tutte le volte che usciamo diciamo dallo studio radiofonico. Noi abbiamo una decina di eventi che facciamo durante l'anno e questi eventi non sono un adesivo, questi eventi sono una visione, insomma, sono qualcosa che si può toccare fisicamente e quando gli sponsor, insomma, i clienti vedono questo tipo di rapporto che noi abbiamo con il nostro pubblico chiaramente sono contenti di esserne parte, di esserne coinvolti da qui questi numeri che ci fanno continuare. Stiamo sentendo, a proposito di dati d'ascolto sempre, diversi promo nelle radio nazionali che invitano le persone a rispondere al telefono, innanzitutto, soprattutto alle telefonate anonime, perché potrebbe essere appunto la rilevazione dei dati e a dire di ascoltare quella radio piuttosto che quell'altra, ogni radio ovviamente spinge per se stessa, ma detto proprio schiettamente, questo chiedere agli ascoltatori di rispondere al telefono e dire che si ascolta quella radio non è un po' poco elegante, secondo te? Oppure sottolinea un altro aspetto, quanto sia poco adeguato questo metodo di rilevare gli ascolti radiofonici? Perché poi devi chiedere agli ascoltatori di darti il voto, tra virgolette. Sì, che il metodo sia un pochino antiquato è evidente, però purtroppo è quello che è ritenuto tuttora il metodo più affidabile. Tutti gli altri, tipo il meter, o costano troppo o sono poco efficaci, nel senso che sono più legati, diciamo, al segnale di una radio musicale che non al segnale di una radio di tipo magari un po' differente, con molto parlato come noi o come altre radio, anche dove ce n'è ancora di più. Sì, non è una cosa bellissima, onestamente, che si debba invitare la gente a rispondere al telefono per dirti ascoltaci o non ascoltaci, ma siccome è diventata una cosa che fanno praticamente tutte le radio, praticamente tutte le radio, a quel punto o c'è la capacità di dire alle altre radio e a tutte le radio non lo facciamo, perché per il mondo radiofonico è un po' patetica come cosa, oppure le altre radio, come noi, hanno dovuto in qualche modo adeguarsi e fare lo stesso tipo di campagna. Io sono orgoglioso del fatto che, pur facendo una cosa che hanno fatto prima di noi tantissimi altri, siamo riusciti a trovare una chiave di lettura e di racconto che è quantomeno in linea con il nostro modo di fare, quindi non è una cosa invasiva e anzi noi lo facciamo anche prendendo noi stessi un po' in giro. Dipendesse da me, io eviterei di farla fare a qualunque radio, però ripeto, siccome la maggior parte delle radio la fanno e ne hanno tratto evidentemente giovamento, non lo dico io ma lo dicono i dati, allora per una volta facciamo come Nino Bixio, diciamo obbedisco. A parte i numeri e il fatturato, perché poi rischiamo di entrare troppo nel lato business, parliamo di contenuti. Tolte le radio del gruppo DJ M2O Capital, il contenuto offerto dalle altre radio italiane, secondo te com'è? Guarda, segue quello che è l'indicazione di tutte le radio del mondo, ti faccio un esempio anche qui vagamente tecnico, ma tanto siamo fra di noi, capiscono tutti quello che diciamo. Una decina di anni fa tutte le radio del mondo più o meno si sono trovate a cambiare i banchi passando da analogico a digitale. Tutta la tecnologia digitale broadcasting che esiste ormai, quella prodotta su grande scala, quella un pochino più artigianale, è tutta riferita a un tipo di gestione radiofonica molto spersonalizzata, cioè quella in cui lo speaker è anche il regista di se stesso ed è poco più che, come dire, il cucù dell'orologio che salta fuori quando suona. Io ho la visione che ho della radio del futuro, ahimè, è un'orologio cucù, magari molto tecnologico, non di legno, non con uno stile alpino, ma insomma con questo tipo di dinamica. Ed è così in tutto il mondo, non è così soltanto da noi, anzi, io una volta da ragazzo quando andavo in vacanza negli Stati Uniti la prima cosa che facevo era attaccarmi alle radio così leggendari e sentivi questi personaggi, questo modo di usare anche la voce. Adesso non c'è più niente, negli Stati Uniti le radio non ci sono più e così è anche in buona parte degli altri paesi europei. Quindi la radio tende ad andare verso un appiattimento al quale si oppongono soltanto quasi ormai le radio italiane. Le radio italiane hanno ancora questa voglia di avere un po' di personalità, per cui da questo punto di vista sono orgoglioso di far parte di un movimento che ancora non si era assegnato a spegnarsi e a diventare tappezzeria, insomma. Resumiamo un po' dall'alto la tua carriera, no? Sì. Quarantennale, di più, non lo so. Un po' secolare. Secolare, secolare. Guardiamola dall'alto. C'è un punto, un po' la linea della vita che fanno al Grande Fratello, in cui tu puoi dire lì ho sbagliato, oppure ho un rimpianto per non aver fatto una cosa? No, non ne ho, guarda, ho fatto molti errori, forse non tantissimi, se le cose vanno ancora bene dopo tantissimi anni, ma no, onestamente nessunissimo rimpianto. Se ho sbagliato in qualche occasione... Guarda, io sono contento perché se sbaglio lo faccio sempre in buona fede e quindi questo mi fa stare sereno con me stesso e sereno con le persone che mi stanno intorno, con le quali ho sempre un buonissimo rapporto, sia con quelle con cui lavoro, sia con quelle che non lavorano più con me. Quando un rapporto di lavoro è finito, è finito sempre tra persone per bene, insomma, almeno quando dipendeva da me. E' un atteggiamento importante da cui si può imparare qualcosa. E ogni volta che parlo con te qualcosina io me la porto a casa, qualche insegnamento, te ne do atto. E l'ultima domanda, come sai, i tempi abbiamo due minuti, ognuno di noi, ognuno di noi, ognuno dei ragazzi che sono qui e di quelli che ci seguono da casa ha l'unico grande scopo della vita che guida tutte le scelte, cioè quello di essere felici. E la felicità però, come si sa, è personale. Cioè non tutti siamo felici per le stesse cose. Tu sei felice e cos'è per te la felicità? Cosa ti rende felice oggi? Guarda, la felicità è un grande inganno perché noi viviamo nell'inseguimento della felicità intesa come condizione stabile. Ma la felicità stabile per fortuna non esiste, altrimenti diventerebbe noiosa. Come vivere in un posto dove ci sono sempre 28 gradi. Se non ci vivi in quel posto ti sembra un posto meraviglioso. Poi quelli che ci stanno invece sognano l'alternanza delle stagioni. E quindi la felicità non è una condizione che devi inseguire in maniera continuativa. Devi essere capace di riconoscere ed essere grato per i momenti di felicità che la vita ti regala. Ce ne sono molti. Io per fortuna sono felice tutte le mattine quando faccio il mio programma, sono felice tutte le volte che faccio sport, sono felice tutte le volte che torno a casa. e quindi sì, sono felice. Ma poi se mi chiedi se lo sono sempre, no, anche perché io sono un rompicoglione. Quindi comunque... Io ho solo la giornata. Grazie Linus, un applauso da parte di tutti i presenti. Grazie a tutti. Siate felici. Siate felici. Ciao, ciao.